Quest'ora mi sembra la sicurezza ai massimi livelli, è andato tutto bene? Aspettiamo la fine della serata, però fino ad oggi sì, un buon dispositivo, efficace ed efficiente, che ha garantito sicurezza e quindi divertimento in sicurezza, sicuramente è un buon binomio. Anche la sinergia fra le forze di polizia mi sembra che ha funzionato molto bene? La sinergia è sempre ottima, da soli non si va da nessuna parte, è una buona collaborazione con le forze di polizia, con l'amministrazione comunale e tutti gli altri soggetti, compresa la RAI, con cui abbiamo lavorato fino adesso molto bene.